Il futuro dell'area ex Cattoi di Riva del Garda continua a tenere banco e a creare momenti di frizione anche all'interno della coalizione di governo della provincia. Lo scorso lunedì Trento ha esaminato le due mozioni presentate distintamente da sei consiglieri della maggioranza rivana, da Iandarino e da Betta con Giuliani e i tre consiglieri del PAT, mentre stasera si è tenuto un vertice aperto ai capigruppo consigliari, alle segreterie politiche e ai firmatari. Dobbiamo assolutamente trovare una sintesi unitaria che rispecchi le posizioni di tutta la maggioranza, ha affermato il giovane responsabile del circolo PD di Riva del Garda, Tenno e Nagotorbole, Gabriele Amel, e arrivare a un nuovo documento condiviso nei termini e nella sostanza. Le posizioni della maggioranza però al momento rimangono divergenti proprio nella sostanza. Da una parte c'è chi, a cominciare dai vertici del Comune e del Partito Democratico, afferma che con il privato non si tratta e non si discute in questa fase di pianificazione urbanistica. Dall'altra invece, chi invece apre a confronto con il privato, visto e considerato che dal 10 di gennaio, piaccia o meno, ormai la situazione e questa è consolidata.